Per questo non è riuscito a fare le riforme? Ma neanche per sogno. Io credo che Berlusconi sia stato travolto da una crisi più grande di lui e probabilmente più grande di tutti noi messi insieme. Tu mai hai detto prima volevi sapere da dove viene? Io credo che venga a portarci un nuovo sistema di potere. È la finanza mondiale che arriva al governo degli Stati europei. Direttamente. L'abbiamo visto in Grecia. Identico, guarda lo scenario greco e lo scenario italiano. Da tutte e due le parti viene un uomo della grande finanza. La grande finanza... Però non mi bruciare subito lo scenario successivo perché se no mi sveli subito il giallo della puntata. Allora va bene, d'accordo, ti accontento. Allora io dico che sono venuto qui per dire una cosa che non ha detto nessuno in tutti questi dibattiti. Il debito non va pagato. Questo è un debito. Questo è un debito illegale, iniquo, che è stato costruito per una larga parte, parlo dei quasi 2 mila miliardi del debito italiano, che è stato costruito per una larga parte delle classi dirigenti italiane che non hanno fatto pagare le tasse ai ricchi. Io dopo questa provocazione ve la giro perché sentiremo anche un po' di voci. No, no, finito. Io do le cifre. Noi abbiamo del nostro debito 750 miliardi che sono i soldi che sono stati investiti dalle banche estere sui nostri bond. Va bene? Questa è speculazione pura. Noi abbiamo già dato a queste banche e alle banche occidentali in generale tutto quello che avevano speso. Le abbiamo già ricapitalizzate. Adesso arriva Monti e ci fa ricapitalizzare un'altra volta le banche europee, con altri 4 mila miliardi, oltre i 16 trilioni di dollari che la Federal Reserve ha regalato tra il 2007 e il 2010 a tutte le banche occidentali. Quanta gente sa che 16 trilioni, cioè 16 mila miliardi di dollari, sono andati a tenere in piedi artificialmente l'intero sistema finanziario dell'Occidente? Quanta gente lo sa? A tasso zero. Gli sono stati dati. Perché? La spiegazione è una sola. Perché tutte le banche... No, dammelo dopo. Dammelo dopo. Perché tutte le banche erano fallite. Sappiatelo. Tutte le banche sono già fallite nel 2007. Noi le abbiamo tenute in piedi e adesso ci chiedono di ritenerle in piedi. E io faccio un'ultima considerazione della... Vammela a fare subito. Ci dicono che noi dobbiamo rispettare il mercato. Ma noi abbiamo già violato, loro perlomeno, non noi, abbiamo già violato tutte le leggi del mercato salvando le banche che erano fallite. Allora, io adesso dovremmo adesso rifinanziarle. La faccia di Cacciari, di uomo quasi inquietato, oltre che inquieto per le parole. Però lo vediamo invece sorridere alle parole di Ostellino rispetto ad Alfano, vecchio democristiano. Mi sembrava che la battuta la divertisse. Allora le domande... La condivide. Quindi il problema è risolto. Ma Mario Monti cosa sarà? Il leader del centro-sinistra sarà un nuovo leader politico di... Condivide. Quindi il problema è risolto. Ma Mario Monti cosa sarà? Il leader del centro-sinistra sarà un nuovo leader politico di questo paese? Oppure terminata la missione... Finirà tutto qui? Ma mi pare evidente che Mario Monti, il governo di Monti, almeno il primo governo Monti, poi non so, ce ne può essere anche uno successivo alle elezioni del 2013, ma a questo governo qui c'è un compito molto determinato per quanto importante. Credo che sia il male minore in questa situazione, perché in questa situazione due o tre mesi di campagna elettorale scatenata sarebbero veramente probabilmente l'anticamera della fine. Monti deve tranquillizzare ovviamente le grandi potenze europee, delle quali noi non facciamo certamente parte, deve cercare di rasserenare i cosiddetti mercati, deve fare operazioni di questo genere. Mi auguro che riesca anche a fare una riforma elettorale questo governo, perché ritornare a votare con il sistema attuale sarebbe scandaloso, ma più di questa cosiddetta riforma non vedo cosa potrà fare il governo Monti, un governo che sarà tecnico-politico, politico-tecnico, ma insomma che non ha certo nemmeno, diciamo da un punto di vista anche formale, la piena legittimazione di un voto popolare, quindi è un governo del Parlamento, diciamo meglio un governo proprio del Presidente, un governo di Napolitano, l'operazione l'ha fatta il Presidente Napolitano e per fortuna che c'è lui almeno a salvare la baracca in questa situazione di assoluta emergenza. Poi il resto che diceva Chiesa, vabbè, sono vecchi discorsi sul capitale finanziario, sui mercati, vabbè, stravecchi. Il problema è che da quei discorsi ci dovessero seguire delle risoluzioni pratiche, nel senso che diceva Chiesa, vabbè, chiudiamo baracca e burattini, è il fallimento e basta, come fu quando le banche fallirono nel 1929, sono discorsi assolutamente d'accademia, da frattocchi di 30 anni fa. Temo che falliremo ugualmente. Allora, visto che abbiamo parlato un po' di leader, visto che a destra si chiama un giovane come Alfano, a sinistra il giovane deve essere Renzi e possa essere lui il nuovo? Eh, ho fatto la domanda a Cacciari, state zitti. Posso anche avere simpatia per Renzi. Dice delle cose molto banali, al limite dell'ovvio, che vanno bene, che sono certamente condivisibili. Dopodiché occorre, sa, in politica non è che tu dici che occorre ridurre la pressione fiscale, che occorre colpire gli evasori, devi dire come lo fai, perché se indichi soltanto che vuoi arrivare a Milano e non indichi se vuoi arrivarci in bicicletta, a piedi, eccetera, eccetera, la tua proposta vale nulla. Quindi bisogna vedere se è in grado di articolare le cose che dici e soprattutto poi se è in grado di convincere, ovviamente, non soltanto il Partito Democratico, ma la coalizione che poi avrà il Partito Democratico al centro e che ancora non ci è dato a sapere quale sia, perché appunto il grande problema dell'ex opposizione in vista dell'elezione del 2013 non è tanto o soltanto quello programmatico, che pure è un punto dolente, ma è proprio la scelta strategica di fondo all'interno di quale schieramento politico collocarsi in sede nazionale e in sede europea, perché avremmo capito, spero finalmente, che tutti i Paesi sono a sovranità limitata, chi più chi meno, che viviamo in un'epoca in cui appunto l'antica sovranità degli Stati che potevano decidere di non pagare i debiti, di farli, è finita. E viviamo, ci piaccia o no, dobbiamo riconoscerlo con realismo, in un'epoca in cui la nostra sovranità è nei fatti limitata da grandi potenze economiche, finanziarie, ma anche tecnico-scientifico. Molto attuale come si vede, non era tanto storico, cacciare, quando hai detto che le cose che ho detto io erano storiche, stai dicendo esattamente quello che dico io, che siamo entrati in un'epoca in cui comanda la finanza mondiale, questo stai dicendo, che altro stai dicendo? Ma non è che comandi solo la finanza mondiale perché gli Stati ci sono ancora come come. La nostra sovranità è una sovranità limitata, noi abbiamo delegato la sovranità del nostro paese all'Europa che la gestisce contro di noi, quello che sta accadendo sostanzialmente. Ma come sono delegate le altre più o meno? Ci sono due livelli, uno sono le colpe nostre e non soltanto di Berlusconi che hanno condotto questo paese ad avere questo debito eccetera eccetera. E queste sono responsabilità nostre. E poi c'è un livello superiore di analisi che riguarda le interrelazioni necessarie a livello globale che limitano la sovranità di diversi stati. A meno che tu non sia un impero, ma anche in quel caso, anche se sei la Cina, poi dipendi da come vanno le cose negli Stati Uniti e ancora di più gli Stati Uniti dipendono dalla Cina. E figurassi se è limitata adesso la sovranità americana, la tua. Allora adesso avete toccato delle vette alte dell'analisi politica, dopo le voglio riprendere. Intanto però Fini secondo me non si dimette. Berlusconi invece si dovrebbe dimettere domenica, però ancora non si è dimesso. Vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Io non credo, e non credo che lo creda fino in fondo anche tu, che sia la finanza quello che sta governando, ma l'accessione di sovranità che abbiamo accettato per fare parte dell'Unione Europea. Chiesa invece lo crede. Io lo credo. Lo credo perché ci sono le cifre. Lo credo perché ci sono le cifre. Noi siamo il paese europeo più virtuoso per quanto riguarda il debito privato. Il 42% del prodotto interno all'ordine italiano è il debito privato. Mentre la Gran Bretagna, voi le cifre te le do tutte così almeno tutti se le ricordano. Vediamo le cifre. L'Italia c'è il 42%, la Francia il 53%, la Germania il 63%, la Spagna l'84%, la Gran Bretagna il 103%. Se noi facciamo la somma del debito privato e del debito pubblico, l'Italia sta molto meglio di quasi tutta Europa, eccetto la Germania. Domanda, come mai improvvisamente la questione del debito pubblico...